Allora a casa della moglie dell'ambasciatore telefonano, non sicché risponde il cameriere dice pronto, che c'è alla moglie dell'ambasciatore? Dovrebbe essere a cagare, dice. Ma che sistema sopra? Vedrai se deve essere a cagare, deve essere a cagare. Che questo che li telefona glielo dice alla moglie dell'ambasciatore e la moglie dell'ambasciatore gli dice ai camerieri sì ma te non tu pochi così, te tu devi, cioè essere un pochino più diplomatico, te tu devi dire per dire la signora è in riunione e appena ha fatto la faccio richiamare, va bene farò così, li telefono, dice c'è la moglie dell'ambasciatore e è in riunione e appena ha fatto la faccio richiamare, dice ma ne avrà per molto, non lo so però quando l'è andata via sta già scureggiando.